Musica Buonasera, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca giudiziaria. Il vicepresidente del Consiglio Comunale di Catania, Riccardo Pellegrino, è stato condannato a due anni, pena sospese, 250 euro di multa per corruzione elettorale. Questa è la sentenza del giudice Dora Anastasi che lo ha assolto su due dei capi di imputazione contestati dalla Procura. Il processo è l'epilogo di una inchiesta della DIA coordinata dai PM Tiziana Laudani e Marco Bisogni che portò a scoprire un sistema di compravendita dei consensi con 50 euro a voto nel corso del regionale del 2017. Condannati a sei mesi il padre del politico Filippo Pellegrino, Giuseppe Panebianco, Ivan Andrea Guerrera, Salvatore Culisano, Gesualdo Brigante e Salvatore Di Benedetta. Assolti invece Biagio Susinni e Ascenzio Maesano, rispettivamente ex sindaci di Mascali e Acicatena e Antonino Castorina. Essendo la pena sospesa non ha alcun effetto sul ruolo istituzionale ricoperto da Pellegrino che comunque attraverso il suo difensore, l'avvocato Luca Mirone, ha annunciato il ricorso in appello. Nel dispositivo sono citate anche le pene accessorie, sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici di Riccardo Angelo Pellegrino per la durata di anni 5, Di Guerrera, Panebianco, Culisano, Briganti, Pellegrino Senior e Di Benedetto per la durata di due anni. Sensibilizzare i più giovani sulla problematica mafiosa. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Antimafia e Illegalità con la presenza di illustri relatori che stamattina hanno relazionato nel corso di un incontro al quale hanno partecipato tanti giovani. Un dialogo approfondito sul fenomeno mafioso. Messaggio indirizzato soprattutto ai ragazzi alla presenza di illustri relatori che si sono confrontate sul grave tema dell'illegalità mafiosa nel nostro paese. Come è stato detto, le mafie hanno molteplici aspetti e non possono essere ridotte alle varie cosche criminali. La mafia innanzitutto è cultura, cioè un sistema complesso di illegalità che coinvolge in modo trasversale i vari ceti sociali, inquinando anche i rapporti personali, la politica, l'economia e le istituzioni statali. L'evento, tenutosi nel centro feristico Le Ciminiere di Catania, è stato promosso dall'Associazione Antimafia e Legalità. La mafia sappiamo che è un radicamento culturale, purtroppo basato su determinati ambienti e ragioni storiche particolarmente elevato. E' sotto cultura che si basa sul mito, sul mito del mafioso che effettivamente sarebbe, secondo loro, una persona che si contrappone al prepotere, alle prepotenze, alle vessazioni e che invece contrappone la propria volontà egemonica. In realtà è un mito, non esiste il mafioso, ma esiste l'organizzazione mafiosa su cui il potere fonda la sua forza. La sua forza, il mafioso non è un supereroe come la sottocultura dipinge. Purtroppo questi miti che hanno delle radici storiche molto, ma molto elevate è proprio sulla prepotenza e sulla forza del soddizio mafioso che si fonda la vera forza della mafia. Soprattutto la sua capacità di interagire con le forze politiche, con le istituzioni, con alcuni ambienti dell'economia e dell'imprenditoria. Come si contrasta? La si contrasta cercando di combattere la cosiddetta povertà educativa e la povertà socio-economica. A me non piacciono i convegni formali. Io con la mia associazione ritengo essenziale andare dalle scuole per parlare ai ragazzi e alle ragazze di legalità, di nuovi principi e di nuovi valori sui quali costruire una società del futuro diversa da quella attuale che a me personalmente non piace affatto e vorrei che i ragazzi si convincessero di questo ed evitassero di ripercorrere le strade degli adulti perché purtroppo molti adulti oggi, a mio giudizio, sono su strade assolutamente sbagliate. E allora i ragazzi devono comprendere che nella vita non vale il principio del possesso a tutti i costi, dell'avere a tutti i costi, ma che l'essere, l'identità, i valori della solidarietà sono fondamentali. E se i ragazzi comprendono questo, forse un giorno, magari io non lo vedrò, però la società sarà diversa. Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Catania si è riunito stamattina nella sua interezza con una procedura d'urgenza per valutare il contenuto delle notizie apparse sulla stampa riguardanti il Presidente Angelo Di Martino. Nel corso della riunione, il Presidente, dopo aver espresso la propria stranità ai fatti, così come riportati sulla stampa riservandosi di agire per le vie legali, ha deciso, sentito il Consiglio di Presidenza, di rimettere il mandato e di rassegnare quindi le proprie dimissioni. Ciò alla fine di preservare l'immagine dell'associazione, evitando così qualsiasi ulteriore speculazione. E questo quanto si legge in una nota diffusa da Confindustria Catania a seguito dell'operazione della polizia a doppio petto che ha fatto luce su un giro di estorsione messa in atto da parte di affiliati alla cosca Pellera Puntina, indagine all'interno della quale sarebbe emerso che il gruppo impenditoriale di riferimento di Di Martino avrebbe pagato le estorsioni. I carabinieri hanno denunciato un uomo che ha fucilato aveva danneggiato il portone d'ingresso di un'altra persona ritenendo l'autore dell'incendio doloso della propria autovettura. È accaduto ad Adrano. Vendetta, tremenda vendetta, tanto da fare saltare a colpi di fucile il citofono e il portone d'ingresso del rivale. È quanto hanno accertato i carabinieri di Paternò dopo la strana sparatoria di venerdì notte quando in una via del centro di Adrano erano stati esplosi colpi di arma da fuoco. Le telecamere di videosorveglianza hanno però chiarito chi fosse l'autore delle esplosioni e anche il movente, perché la storia parte di fatto qualche giorno prima, sempre da Adrano, dove in una strada periferica era stata data alle fiamme una autovettura di un 39enne pregiudicato del posto, natura dolosa, per cui erano già scattate le indagini dei carabinieri per risalire all'autore dell'incendio. Ma il proprietario dell'autovettura andata in fiamme nutrendo dei personali sospetti su chi fosse l'autore ha pensato di fare giustizia da sé, non attendendo peraltro la conclusione dell'attività investigativa dell'arma dei carabinieri già a buon punto, per cui ha imbracciato il fucile e si è recato sino alla porta di ingresso del rivale, sparando un colpo che ha danneggiato, come dicevamo prima, il portone e il citofono. L'azione però è stata ripresa da diverse videocamere che hanno consentito ai carabinieri di risalire all'artefice del pericoloso gesto. L'uomo si era già disfatto del fucile ed operato per l'assurda ritorsione e è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento, nonché detenzione abusiva di armi. E stamattina a Palermo, nei pressi di corso Calatafimi, è scoppiato un incendio all'interno di un appartamento. Sembra, dalle prime ipotesi dei vigi, che l'incendio sia avvenuto all'interno della cabina ascensore. Sentiamo. È stata tanta la paura stamattina quando improvvisamente i residenti che abitano nella zona hanno iniziato a vedere colonne di fumo uscire da varie aperture di un palazzo di sette piani in via Tommaso Marcellini, zona Corso Calatafimi, nei pressi della Rocca. Partono quindi le segnalazioni. Diverse telefonate pervengono alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Palermo. Sul posto interviene la polizia di Stato e il 118. Tempestivo inoltre l'arrivo di tre squadre dei pompieri, le quali, come prima cosa, fanno evacuare le persone che in quel momento si trovavano all'interno dello stabile. Si assicurano quindi di mettere tutti in salvo. poi inizia l'intervento all'interno di un appartamento situato al quarto piano del palazzo c'è un incendio, il fumo e dappertutto nei pianerottoli sale per le scale, trova vie di fuga dalle finestre. Da fuori l'edificio è avvolto da una nube. I pompieri entrano nello stabile, salgono al piano, iniziano le operazioni di spegnimento e la ricognizione. I vigili ispezionano il vano ascensore. sembra che le fiamme siano partite dal locale che ospita il motore elettrico dell'ascensore. Probabilmente si è trattato di un cortocircuito nel cablaggio. È l'ipotesi dei pompieri. L'incendio dopo qualche ora viene domato. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito o intossicato. Non sono stati registrati danni all'interno degli altri appartamenti. A San Cristoforo a Catani i carabinieri hanno svantellato una piazza di spaccio per lo smistamento al dettaglio della droga in due appartamenti di Via Alonso e Via Consoli. A condurre il blizzi militare della squadra Lupi insospettiti per un insolito via vai di persone sono scattate le indagini che hanno portato all'operazione della sera scorsa con l'arresto di sei pusher. Un ventenne e un diciottenne catanese entrambi pregiudicati. ancora un 43enne originale del Senegal ma da diversi anni residente a Catania in che gli è pregiudicato e tre minorenni che dovranno rispondere delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di detenzione abusiva di munizionamento e ricettazione. Un sistema di telecamera era stato installato a protezione degli ambienti per cui il gruppo Lupi dei Carabinieri ha dovuto trovare una strada alternativa per l'accesso alle zone di stoccaggio e cessione dello stupefacente. Ritrovate il materiale per il confezionamento delle dosi e danaro ma anche pezzi di ricambio di auto con cui sarebbero state pagate le dosi cocaina e crack. Due dei pusher avrebbero tentato la fuga attraverso i detti ma sono stati successivamente bloccati. E adesso andiamo a restiamo a Catania per il sit-in davanti alla sede dell'Enel Green Power. Vediamo. è calato il silenzio sull'avvio della produzione di prodotti e di conseguenza sulle centinaia di assunzioni prospettate per questo ma anche per altri motivi nel pomeriggio UGL Chimici Sicilia e UGL Chimici Catania hanno promosso il sit-in dei lavoratori Enel Green Power e Tresan all'ingresso della fabbrica della zona industriale di Catania la Gigafactory per intenderci. Sindacati dipendenti hanno chiesto all'azienda rassicurazioni sul futuro della più grande fabbrica di pannelli fotovoltaici d'Europa. Questa fabbrica che è un fiore all'occhiello per l'Italia e per l'Europa è la più grande fabbrica di pannelli fotovoltaici d'Europa e che avrebbe già dovuto avviare la costruzione dei primi pannelli rispetto alle comunicazioni fatte alle nostre segreterie nazionali in cui si prevedevano 300 unità nel 2023 non sono state fatte ancora oggi assunzione di operai così come era stato previsto e tutto slitta al 2024 oltre a questo la diatribe interna per l'applicazione contrattuale che ha portato la nostra organizzazione sindacale a dichiarare lo sciopero assistite anche dalla nostra segreteria nazionale ci ha messo in allarme le dichiarazioni del nuovo amministratore delegato il quale ha dichiarato la vendita del 50% delle azioni della Tresanne SRL questo elemento a nostro avviso ci preoccupa perché ci lascia pensare che potrebbe succedere un ritardo notevole nelle assunzioni del personale il cantiere dell'atteso polo produttivo è ancora in fase di definizione motivo per cui rispetto alle tempistiche prefissate è stata concesso una proroga mentre si è appreso che in corso di cessione il 50% delle quote sociali a fondi di investimento operazione già prevista orientativamente per il 2030 e il cui largo anticipo di certo destra allarme nel sindacato in un momento in cui la produzione stenta ancora a decollare ed entrare a pieno regime e non si vedono nemmeno le tracce di una parte delle 700 assunzioni paventate la nostra preoccupazione ci sta tutta ci auguriamo che ovviamente sia solo una preoccupazione che già dai prossimi mesi inizino ad essere assunti le nuove unità operative e che lo stabilimento possa partire entro l'anno 2024 così come era stato previsto in atto non abbiamo ricevuto alcuna telefonata ci hanno semplicemente detto che ci incontreremo probabilmente ma per questioni interne all'applicazione contrattuale ma rispetto invece la prospettiva dello sviluppo della fabbrica e della realizzazione in capo a Enel ancora no e parliamo adesso del concorso per i forestali è stata accertata dal collegio ispettivo nominato dal presidente della regione siciliana Renato Schifani l'illegittimità degli atti di procedura concorsuale per l'assunzione di 46 agenti forestali già i primi di novembre a seguito di alcune notizie giornalistiche la presidenza della regione si era immediatamente attivata per l'accertamento dei fatti coinvolgendo i vertici delle strutture amministrative regionali il collegio formato dal segretario generale dall'avvocato generale della sua vice ha concluso i lavori oggi dall'ampia relazione presentata al presidente della regione emerge che il dirigente generale del comando del corpo forestale dell'epoca infatti avrebbe dovuto astenersi dal nominare il presidente della commissione di concorso trovandosi in conflitto di interessi e adesso parliamo della qualità della vita ancora una volta impietosa con le città siciliane la classifica annuale su questo argomento stilata dalla sole 24 ore primeggia in Sicilia Ragusa al penultimo posto generale Caltanissetta è ancora impietosa la classifica sulla qualità della vita pubblicata anno dopo anno dalla sole 24 ore in prima pagina sullo giornale economico di oggi se Udine per la prima volta sale sul gradino più alto le città siciliane continuano invece ad attestarsi nelle parti basse anzi bassissime della classifica che tiene conto di diversi parametri come il pil pro capite i livelli di istruzione le ricchezze e i consumi le emergenze climatiche affari lavoro giustizia sicurezza ma anche tempo libero e cultura secondo quanto rilevato dal sole 24 ore la peggiore città siciliana per qualità della vita è Caltanissetta al centoseesimo posto dunque appena un gradino sopra Foggia classificatasi al centosettesimo posto non sta meglio Siracusa che si posiziona al posto numero 104 perdendo 13 posizioni rispetto all'anno precedente la prima città isolana e come ormai consolidato da tempo Ragusa all'ottantasesimo posto lo scorso anno era ottantacinquesima tre posizioni più indietro dunque all'ottantanovesimo posto troviamo Messina che mantiene la sua posizione mentre un gradino sotto troviamo Enna novantesimo posto dieci in più dello scorso anno quindi Catania in novantaduesima posizione che scivola però di un posto rispetto alla 2022 scende anche Agrigento al novantaquattresimo posto meno otto in gradatoria quindi Palermo novantacinquesimo posto con meno sette rispetto al 2022 poi troviamo Trapani che perde sei posizioni per classificarsi al novantanavesimo posto curiosità per quel che riguarda la città di Catania valori sopra la media rispetto al novantaduesimo posto complessivo per quanto riguarda i parametri relativi a demografia società e salute cultura e tempo libero ambiente e servizi sotto media per giustizia sicurezza ricchezza e consumi affari e lavoro e adesso parliamo di golfi pescatori ricercatori siciliani sulla stessa barca nella rete 3G che ha fatto un focus sui tre golfi dell'isola Castellammare Patti e Catania il 66% del PIL mondiale è basato sulla biodiversità la tutela attraverso i piani di gestione mirati sentiamo Guenda Garozzo lo stato di salute dei tre golfi siciliani quelli di Castellammare di Patti e di Catania i primi due al vertice di un podio virtuale che invece vede quello etneo in condizioni peggiori una raccolta di dati attraverso campionamento e studio portato avanti nell'ambito del progetto 3G che rappresenta di fatto il primo vero e proprio lavoro di indagine dal 1990 da dopo la chiusura dei golfi azione questa scaturita da una legge regionale gli esiti necessari per mettere in campo piani di gestione diversificati adesso nelle mani dell'assessorato regionale all'agricoltura e pesca della regione siciliana il nostro progetto rete 3 golfi che è stato coordinato dall'università di palermo e dalla stazione zoologica dopo un anno di raccolta dati con pescherecci pescatori ricercatori e tutti insieme ha certamente messo in evidenza una situazione estremamente differente partiamo dal presupposto che i golfi e la pesca strascico nei golfi è in questo momento chiusa le golfi sono zone di tutela biologica la stato è differente nel senso che a Castellammare vi è una elevata biodiversità a sostegno delle spese commerciali la stessa cosa a Patti e Catania per le condizioni fisiografiche oceanografiche biologiche strutturali e morfologiche è una situazione leggermente differente voglio ringraziare la comunità scientifica siciliana e l'Antondor che hanno lavorato a un progetto importante che serve a riqualificare i nostri golfi ma soprattutto a dare regole certe alle marinerie di queste tre aree geografiche Castellammare Patti e Catania finalmente hanno avuto uno studio serio che ha coinvolto i cogepa e le marinerie e quindi i pescatori nell'analisi delle acque nello sfruttamento delle basi su cui si fonda la pesca in questi tre golfi e da oggi potrà finalmente avere risultati scientifici che consentiranno loro di avere regole certe ma soprattutto un nuovo programma su cui poter intervenire nelle nostre coste è un piano che farà derivare scaturire altri studi e altri approfondimenti che con i piani di gestione metteranno fine all'abusivismo Facendo una piccola graduatoria c'è stato spiegato che Castellammare e Patti sono meglio messi mentre Catania soffre Castellammare e Patti agli studi che ci vengono consegnati hanno una maggiore capacità di recupero che in questi anni il mare e quindi la fauna ha registrato rispetto al golfo di Catania che ha registrato numeri negativi rispetto a questi altri due golfi ma che comunque ci rassicura sul fatto che potrà avere anche al golfo di Catania un nuovo piano di gestione e quindi un nuovo riutilizzo e sfruttamento di quella che è la risorsa marina ma soprattutto nel rispetto della fauna che consentirà ai pescatori di Catania finalmente di rimettersi in regola prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza all'interno delle farmacie a Palermo e in provincia sono al momento oltre 80 quelle che hanno già aderito attualmente sono in tutto 83 le farmacie di Palermo e provincia ad aderire alla campagna di vaccinazione contro l'influenza la lista consultabile sul sito www.utpharma.it nei prossimi giorni potrebbe allungarsi il vaccino anti-influenzale è aperto a tutti è però particolarmente indicato per alcune categorie di persone che potranno riceverlo gratuitamente perché a carico del servizio sanitario nazionale coloro che non rientrano nelle categorie degli elegibili o degli eventi diritto possono comunque vaccinarsi in farmacia ma a proprie spese pagando il corrispettivo stabilito dalla regione siciliana 6 euro e 16 centesimi più il prezzo di acquisto del vaccino al pubblico tutti i venerdì le farmacie che hanno aderito alla campagna provvederanno a ordinare all'ASP di Palermo le dosi necessarie per vaccinarsi è consigliabile prenotarsi a comanda Federfarma così da garantire efficienza continuità e puntualità del servizio le farmacie territoriali si rivelano un formidabile alleato del servizio sanitario nazionale sia per la dispensazione cosa che facciamo da sempre che per la cura in questo caso anche per la prevenzione delle principali patologie come l'influenza l'accordo che abbiamo raggiunto con l'assessorato regionale da salute è quello con la distribuzione intermedia del farmaco che ringrazio per la disponibilità mostrata nei confronti delle farmacie e indirettamente quindi nei confronti della popolazione riconosce il ruolo e il valore che la farmacia ha nel campo della prevenzione su larga scala e tutto questo chiaramente ha beneficio della popolazione sul territorio un compito che la farmacia ha sempre svolto da sempre e che ha dato ulteriormente capacità di saper svolgere durante il periodo della vaccinazione anti-covid siamo un presidio del servizio internazionale a servizio delle comunità locali e lo saremo ancora più nel prossimo futuro con la piena applicazione della norma sulla farmacia dei servizi che darà ulteriori possibilità ai nostri pazienti di trovare in farmacia un presidio pubblico pronto a soddisfare le richieste e a dare delle risposte utili al cittadino gli aventi diritto sono tutti coloro i quali presentano alcune patologie che aumentano il rischio di complicazioni a seguito di influenza i familiari di soggetti a rischio complicanze ne fanno parte poi gli over 65 le donne in gravidanza o post partum i medici le forze dell'ordine i vigili del fuoco i lavoratori particolarmente esposti e i donatori di sangue il vaccino infine è particolarmente raccomandato a tutti i ricoverati in strutture per lungodeggenza importanti notizie per la tenda di San Camillo finanziati infatti i lavori di ristrutturazione la struttura che soccorre e assiste malati di EDS venne distrutta tre anni fa dall'incendio in cui perse la vita fratello Leonardo Grasso nascerà anche una cooperativa per dare opportunità lavorative agli ospiti vediamo a tre anni dal tragico incendio da parte di un ospite in cui ha perso la vita fratello Leonardo Grasso si ricostruisce ampli alla tenda di San Camillo di riposto la struttura in cui venivano accolte ex carcerate e malati di EDS affidata alla direzione del Camigliano sorpreso dalle fiamme nessunno e deceduto venne dichiarata inegibile in seguito al rogo scatenato da uno dei fruitori affetto da una grave turba psicologica adesso grazie ai fondi dell'otto per mille a benefattori privati sensibilizzati dai camigliani al contributo dalla regione siciliana con un fondo di circa 120.000 euro verranno eseguite le opere di sistemazione del piano andato completamente distrutto dal fuoco con estensione a fattoria sociale attraverso una cooperativa stamani presso i locali della Curia Vescovilla 10 Reale l'annuncio da parte del Vesco e Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana Monsignor Antonino Raspanti presenti il Deputato Regionale Nicola D'Agostino e il Superiore Provinciale dell'Ordine dei Camigliani Frater Carlo Mangiore siamo grati infatti alla famiglia camigliana perché non si è tirata indietro anzi ha voluto insistere rilanciando e coinvolgendo tantissime componenti della società acese non solo acese che da anni guardano con speranza a quella possibilità che c'è in quella casa sia per curare gli ammalati di EDS sia per sovvenire alle tante indigenze e necessità che si creano nel nostro territorio si sono mobilitate tanti enti tra cui anche l'Ottopermide della Chiesa Cattolica che ha dato uno dei tanti piccoli contributi che concorreranno alla rimessa in sesto al nuovo progetto e dunque al rilancio della casa La ristrutturazione del locale e l'ampliamento dell'ospitalità attraverso l'istituzione di una cooperativa sociale voluta dai Camigliani per dare nuove possibilità di inserimento agli ospiti sul progetto curato dallo studio Pennisi Faro In modo che si possa dare anche in questo luogo oltre che l'assistenza anche un riscatto promozionale quindi la possibilità anche di lavoro in base alle proprie situazioni alle proprie possibilità ecco dare questa possibilità anche ai nostri fratelli accolti ecco di esprimersi attraverso il lavoro che può essere giardinaggio che può essere coltivazione oppure allevamento di animali Anche la politica ha fatto la propria parte finanziando parte dei lavori così il deputato regionale Nicola D'Agostino riferimento dal territorio L'assemblea regionale grazie al suo presidente a suo tempo diede un contributo e quindi si fu la possibilità di cominciare i lavori poi la CEA ha completato adesso credo manchi ancora una parte speriamo di poterla anche questa colmare in maniera tale che la struttura possa ritornare in perfetta funzionalità in piena forma e continuare a offrire questo servizio silenzioso ma fondamentale importante non solo dal punto di vista della solidarietà ma anche dal punto di vista di una risposta che a volte non si trova in altre istituzioni La pagina sportiva adesso mezza delusione per il Catania fermato sul pari casalingo dalla Virtus Francavilla non è bastata una buona prova offerta dalla formazione di Lucarelli per accentrare il successo complice anche la mancanza al centro dell'attacco di Di Carmine che ha avuto un problema muscolare il Catania adesso punta dritto sul derby in programma sabato sera allo stadio San Filippo di Messina contro la formazione peroritana Il Catania rallenta solo un pareggio casalingo contro la Virtus Francavilla malgrado la formazione rossa-azzurra abbia fatto di tutto per conquistare l'intera posta in palio i rossa-azzurri pagano però l'anemia offensiva considerando anche il problema muscolare che ha impedito a Lucarelli di proporre Di Carmine al centro dell'attacco la Virtus Francavilla sfrutta l'unica occasione creata nell'arco dei 95 minuti di gioco mentre i padroni di casa scelirono tante azioni senza mai riuscire ad impensierire il portiere forte che si deve impegnare a fondo soltanto in un paio di circostanze deviando in corner i colpi di testa ravvicinati di Marsura e Castellini Dubiscas non punge come dovrebbe e gli ospiti sfruttano nel migliore dei modi l'assolo di artistico che supera in scioltezza curato poi anche Silvestri e indirizza il pallone nell'angolo più lontano dove Beters non può arrivare una doccia fredda dalla quale la Catania comunque tenta subito di riprendersi l'attacco è però spuntato malgrado le buone trame tessute da Rocca e Chiricò nella ripresa Castellini prima e poi lo stesso curato impensieriscono le portiere ospite ma il pareggio arriva soltanto alla mezz'ora quando i neo entrati Bocic e il De Luca confezionano l'1 a 1 sgropata sulla sinistra della numero 24 che serve in mezzo per il numero 7 abile a girarsi in un fazzoletto di campo e indirizzarlo nell'angolo più lontano di sinistro con un quarto d'ora abbondante da giocare il Catania tenta di gettare il cuore oltre l'ostacolo per agguantare i tre punti ma Forte si supera ancora sulla deviazione ravvicinata di Chiricò e la punizione di Castellini viene bloccata senza problemi dall'estremo difensore pugliese finisce 1 a 1 il Catania è adesso atteso dal delicato derby in programma sabato prossimo arriva allo stretto contro un pericolante Messina comunque reduce dalla vittoria in trasferta sul campo del Monte Rosi e adesso la palla a volo con l'ennesima sconfitta purtroppo per la Saturnia questa volta il sestetto catanese ha ceduto alla Padova doppio allarme rosso il primo la Saturnia Farmitalia esce sconfitta dal Taraflex di Padova per 3-7-1 e resta ancorata all'ultimo posto della Superlega secondo allarme gli infortuni sembrano voler perseguitare il sestetto guidato in panca da Cesar Douglas Silva perché anche il già nazionale Jacopo Massari arrivato a Catania per sostituire dalla banda l'iraniano Manavi ieri ha dovuto lasciare i compagni durante il terzo set per un risentimento al polpaccio sinistro la valutazione sanitaria nelle prossime ore chiarirà l'entità dell'infortunio dopo una prova certamente convincente di costante supporto alla squadra eppure l'ottava partita di Superlega per i catanesi era iniziata di gran carriera per Santiago Orduna e compagni un lungo testa a testa con i padroni di casa più attenti in battute a attacco a differenza dei siciliani mix questo che aveva portato sì il Padova alla vittoria del primo set ma che aveva consentito successivamente a Farmitalia di pareggiare i conti nel secondo parziale con una prestazione roboante malgrado fosse di fatto solo Buckega a bucare la retroguardia Padovana poi l'infortunio a Massari e dall'altro lato della rete gli avanti di casa che non hanno risparmiato la difesa il muro catanese sestetto spesso in affanno anche in ricezione tanto da impedire il gioco veloce al centro Buckega top scorer ed MVP dell'incontro ma è troppo poco per questa Saturnia pare che la società voglia proseguire le operazioni di mercato per rafforzare il team con tutte le difficoltà del caso visto la stagione avanzata ma si proverà il percorso domenica prossima al Palacatania alle ore 16.30 fischio d'inizio tra Saturnia e Mint Monza sestetto che veleggia nelle posizioni tranquille medio-alte della classifica c'è bisogno di tutto il Palacatania per spingere la Saturnia in Vasca meritato successo dell'orizzonte Catania che a Cosenza supera per 30 a 5 le locali consolidando la prima posizione in classifica dopo un paio di battute di arresto tra Champions e campionato Briz cede invece alla SIS Roma nella piscina di casa per 9 a 21 adesso la lunga sosta di campionato la ripartenza a febbraio la politica torna protagonista all'intervista ospite questa sera della nostra trasmissione d'approfondimento il presidente provinciale di Fratelli d'Italia di Catania Alberto Cardillo recentemente riconfermato con l'esponente politico di testa parleremo della crescita del partito della Meloni che nei sondaggi si conferme il primo in Italia ma anche grande test elettorale in arrivo le europee in programma nel prossimo mese di giugno Cardillo potrebbe essere candidato al posto di Raffaele Stancanelli che in polemica ha annunciato di rinunciare alla corsa per la riconferma a Bruxelles ma ci sarà spazio per analizzare la situazione politica e amministrativa a Catania città guidata da un sindaco proprio di Fratelli d'Italia Enrico Trantino collegato in diretta anche il collega di Live Sicilia Fernando Massimo Adonia appuntamento questa sera alle 20.30 dopo il Tg e di replica domani alle 23 non c'è altro per il momento vediamo dunque insieme le previsioni meteorologiche per domani il meteo in Sicilia nella giornata di martedì 5 dicembre 2023 il cielo sarà coperto con minaccia di pioggia un po' ovunque i mari saranno mossi le temperature previste in calo con la massima che si registrerà in alcune località e tra queste anche a Catania 16 gradi la minima nel capologo Etnea 12 gradi abbiamo concluso vi ricordo che potete seguire questa edizione della telegiornale sul sito retv.it e sui nostri canali social il prossimo appuntamento con le informazioni in diretta previsto per domani a partire dalle 14 ci ringrazio Enne Regia Manuela Musomeci e Carmela Fagone e vi auguro la buona serata arrivederci a partire a partire